Il totale dei decessi è arrivato a 689 vittime da coronavirus nelle Marche. Rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore, si registra un callo di 7 morti, 4 donne e 3 uomini. Tra i 70 e 90 anni, il più giovane aveva 70 anni ed era residente a Cartoceto, mentre il più anziano aveva 93 anni di polverigi in provincia di Ancona. Tutti avevano patologie pregresse, 6 le vittime registrate fuori regione. Supera quota mille il numero dei dimessi e guariti arrivando a 1.086. Attualmente invece sono 129 i nuovi tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 776 test effettuati. Lo rende noto il Gores, il gruppo operativo regionale emergenze sanitaria che sta eseguendo il contagio da coronavirus. Il totale dei casi positivi sinora registrati è 5.084 su 18.970 tamponi analizzati. Callano i ricoveri in terapia intensiva negli ospedali marchigiani. Da 133 di ieri scendono ad oggi a 127. Diminuiscono anche i ricoveri in reparti non intensivi. De 463 nel precedente bollettino oggi risultano 452, mentre in area postcritica risultano 209 pazienti. I casi in isolamento domiciliare sono 2.264 rispetto ai 2.323 di ieri. I casi in isolamento in casa per contatto con positivo contano 8.144 in aumento rispetto al precedente aggiornamento. Di questi 4.836 sono asintomatici e 3.308 presentano sintomi. Il Gores annuncia anche l'aumento degli operatori sanitari da 1.113 di ieri a 1.135 casi isolati. La provincia di Peserorbino è in testa con 2.093 casi positivi. Segue Ancona 1.501, Macerata 776, Fermo 343, Ascoli Piceno 237. 134 invece risultano fuori regione. Grazie. 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 Grazie a tutti.